buonasera a tutti sono andrea plazzi e adesso stiamo per farci una bella chiacchierata con tante persone estremamente interessanti per questo incontro di luca changes questa edizione a cui ci abitueremo un po completamente al di fuori dal necessariamente visti i tempi dalle abitudini che avevamo quando si parlava di luca e del modo di parlare di incontrarsi per i fumetti partiamo ricordando e salutando speriamo che ci stia seguendo che possa seguirci una persona che non è con noi gradmi smuggia grande autore serbo praticamente italianizzato in italia da molti anni e non sta benissimo ci saluta tutti lo salutiamo doveva essere con noi questa sera è un autore che nasce diciamo come illustratore e pittore e scopre il fumetto relativamente tardi e lo scopre con una tecnica un'attenzione particolare a dei cromatismi molto ricchi al colore stiamo per vedere qualche una selezione di sue di sue immagini tratti da vari lavori e il tema di cui parleremo oggi e cioè in qualche modo il rapporto è complesso e controverso tra tra il fumetto e l'arte e vedremo cosa significa arte a maiuscola a minuscola o quale altra accezione possiamo dare a questo termine è qualcosa che è sempre presente fin dall'inizio nei nei lavori di gradimir un po la sua formazione e un po il suo interesse anche nel raccontare storie cioè non soltanto la sua formazione accademicamente e anche tecnicamente come illustratore molto solida ma a lui interessano le figure storiche dell'arte gli artisti ha creato su di loro delle storie davvero affascinanti con soluzioni narrative particolari una è in due volumi molto ricchi su van gogh in tempi non sospetti cioè prima che ovviamente fosse un obbligo parlare di van gogh come negli ultimi tempi e è una mostra dedicata di recentemente l'anno scorso direi al al puff al museo del fumetto friulano di di pordenone ha mostrato in maniera particolarmente ricca e spettacolare anche l'approccio di gradimir alle figure dell'arte siamo ancora in tempo se è possibile a vedere alcune sue immagini se riusciamo a recuperarle dalla regia altrimenti lo salutiamo grazie per se ci stai ascoltando gradimi rimettiti presto e ci risentiremo in qualche occasione questa immagini è una situazione che arriveremo tra poco io intanto farei una rapida sintesi dell'argomento di oggi che un po accennato e poi una presentazione dei nostri dei nostri ospiti più che una discussione accademica e tecnica vorremmo fare una chiacchierata sul rapporto tra il fumetto e altre forme di espressione che di solito vengono chiamate tanto per intenderci o vengono riconosciute come arte dicevamo a volte questa parola in italiano alla mai alla maiuscola quando diciamo arte intendiamo le belle arti l'arte classica l'arte che diciamo la storia o l'accademia cioè il fatto che viene insegnata ha consacrato come alta come come importante storicamente possiamo dire questo del fumetto e naturalmente parliamo di fumetti perché siamo siamo tra virgolette a lucca che è un'arte visiva cioè si esprime attraverso l'immagine cioè uno strumento di espressione personale anche storicamente ha una natura ibrida da cui un po la controversia si suole dire è quasi un cliché un luogo comune ma è storicamente vero che il fumetto nasce all'incrocio tra arte artigianato e industria e tutte queste componenti in mangiura variabile nel tempo sono sempre presenti nella storia delle sue opere dei suoi editori questo è l'aspetto economico industriale e dei suoi autori il rapporto degli autori cercherò sempre di dire autori e non artisti io ho una personale allergia nel senso che è difficile usarla bene per la parola artista cercherò di dire autore e gli autori sugli autori delle opere poi se meritano vogliono esigono o si vedono tributare la qualità di artista di volta in volta ne discuteremo il rapporto degli autori con loro lavoro e già il fatto che possa o debba essere un lavoro presuppone dei vincoli con una committenza con la necessità di rispettare dei tempi delle scadenze delle consegne e parlavamo di aspetto industriale del del fumetto li pone in una situazione di in genere compromesso devono fare cose che a loro piacciono perché parlavamo di un metro un mezzo di espressione al tempo stesso però devono accontentare o fare qualcosa che soddisfi anche le persone che hanno chiesto loro di fare le opere nel modo in cui sono più bravi nel nostro caso parleremo spesso quasi sempre di fumetto ma non solo perché gli autori che sono qua con noi stasera fanno fanno anche altro perché sono qua questi autori sarà chiaro appena ne avremo un po parlato mi piace cominciare presentandomi james breadbourne che qua con noi stasera buonasera james buonasera eh è canadese ma ormai da una vita in italia ha una formazione in architettura poi si è specializzato in gestione di strutture museali possiamo dire che è un manager dell'arte una persona comunque esperta nel valorizzare e mi correggerà se invece vede che il suo ruolo è diverso i luoghi dell'arte dove ci sono opere d'arte e dove le persone vanno a vedere a fruire dell'arte il più possibile per un pubblico vasto e se questo è vero o falso lo propongo a a james breadbourne come prima questione ha diretto queste strutture in tanti paesi in olanda in germania e naturalmente è qui con noi perché scherzavamo prima è mezzo italiano in italia da una mezza vita da da tanti anni dal 2006 al 2015 è stato direttore ehm generale della fondazione palazzo strozzi a Firenze e dal 2015 la cosa fu in cronaca sui giornali in tv con un certo risalto eh direttore generale della pinacoteca di brera e della biblioteca bride dance unificati credo per l'occasione o comunque eh col suo arrivo naturalmente a a milano ehm un altro autore che io vedo direttamente sopra james breadbourne non so voi e daniel gegeli ciao daniel ciao gegeli eh daniel è nato a zagabria è un fumettista illustratore animatore regista ha tante attività non so se il fumetto è prevalente hm per anni io l'ho conosciuto come eh come fumettista è stato pubblicato faremo prima dire i paesi in cui non è stato pubblicato credo che se andassimo all'ONU e trovassimo un rappresentante un po' fumettofilo nelle varie delegazioni ONU in un certo numero potremmo trovare qualcuno che ha letto qualcosa di di Daniel nella sua lingua ovviamente ha pubblicato quindi in Croazia in Slovenia in Inghilterra Gran Bretagna in Svizzera in Francia Italia in Spagna Grecia Svezia Brasile Argentina Sudafrica Cina e ovviamente Stati Uniti e poi tutti quelli che non sto citando negli Stati Uniti ha prodotto un certo numero di opere, lavori, racconti, storie, miniserie particolarmente visibili perché negli Stati Uniti operano le grandi major del fumetto occidentale la Marvel e soprattutto la DC Comics e la Dark Horse e poi anche la Image è pubblicato anche su giornali New York Times Book Review, Harper's Magazine, il San Francisco Guardian e il Washington Chronicle non comincio perché non so quando finirei a dare un'idea della sua bibliografia dico soltanto che naturalmente ed è particolarmente bella devo dire a me piace molto comprende un lavoro su Van Gogh e poi cito due cose per motivi sentimentali non so se Daniel ancora le ricorda le preferisce sono molto molto vecchi quindi gli autori con le loro vecchie cose sono un po' critici io ricordo con un certo affetto Il Ritmo del Cuore e Sun City che sono state le prime ad apparire in Italia credo opere italiane come nascita forse ho questo ricordo nel 93-94 quindi parliamo di un po' di tempo fa e mi sono rimaste impresse la prima in particolare Il Ritmo del Cuore ha fatto in tempo a essere vista e apprezzata e comunque gli hanno strappato un commento molto benevolo da Federico Fellini che per pochi mesi sono andato a guardare la cronologia in quell'anno ancora per qualche mese è stato con noi poi anche regista e animatore ha lavorato a film e animazioni presentati in un certo numero di festival internazionali e come ultimissima cosa perché altrimenti in realtà potremmo andare avanti cito la sua attività abbastanza intensa e molto continua nel tempo di performer performer cosa vuol dire esattamente non lo può dire la parola stessa perché è una parola quella di performance sotto cui ci può essere quasi qualsiasi cosa Daniel entrerà un po' nel merito decine e decine presentate negli anni ricordo lo dico subito perché c'ero e quindi ho fatto presto le ho spuntate dall'elenco interminabile delle performance di Daniel Oily Night nel 2009 al Castel Sant'Elmo di Napoli Dedicated to Chaos alla benemerita Galleria D406 di Modena e nello stesso posto The Shop of Wild Dreams che devo dire mi colpì abbastanza passiamo a un altro dei nostri ospiti sarò un po' una ruspa andrò a raffica Daniele Caluri ha iniziato come disegnatore e autore umoristico satirico per il Vernacogliere che in Italia anche al di fuori di Livorno dove ha sede anche al di fuori della Toscana è una testata insomma con un suo seguito di aficionato uno toccolo duro di persone che apprezzano una satira intenzionalmente provocatoria dissacrante sboccata a volte gratuitamente a volte meno gratuitamente volgare insomma si sceglie il modo in cui dare noia a qualcuno che è una definizione discutibile ma che può starci ogni tanto di satira è diplomato all'Accademia di Belle Arti di Firenze si è scelto ben presto una strada di fumettista professionista collaborando a testate che sono ufficiali per definizioni in Italia come il Martin Mister di Sergio Bonelli editore ha un suo parallelamente percorso caratterizzato da vari personaggi quelli per il Vernacogliere che culminano dopo molti anni in Don Zauker che è una specie di totem avatar in parte riflette se non la personalità opinioni di Daniele e del suo coautore che è Emiliano Pagani approdato dopo anni di autoproduzione al marchio Feltrinelli Comics che da qualche anno ne sta riproponendo le vecchie storie riconfezionate per un pubblico diciamo ufficiale della libreria e più anche produzioni nuove gli hanno dedicato mostre monografiche a Lucca in particolare che è un po' una consacrazione in ambito fumettistico e poi apriamogli un attimo l'armadio tiriamo fuori qualche scheletro in realtà no non tiriamo fuori niente perché è risaputo Daniele ne parla liberamente e con grande piacere sui social dove è abbastanza attivo è un insegnante di storia dell'arte di disegno di storia dell'arte presso un liceo scientifico di Livorno quindi anche un praticante ufficiale oltre che un dissacratore di belle cose e magari vedremo con lui come fa coinvivere senza vedervi io suggerisco ipotizzo alcun problema questi aspetti che per alcuni possono sembrare molto molto lontani infine e poi butterò una palla nell'arena e ve la dovrete un po' giocare Giuseppe Palumbo Giuseppe Palumbo occupa tutti i fogli che non ho scritto non ho stampato e non ho qui con me disegnatore fumettista ha lavorato come performer ma soprattutto è interessato e questa è una mia definizione a qualsiasi cosa bella se avete qualche bella idea su cose belle con Giuseppe che tra l'altro ha una cultura personale storica letteraria e artistica invidiabile non è l'aspetto che lui promuove di più ma chi lo segue sa che è uomo di molte e interessanti letture è uno dei due da cui scusate l'arroganza prendo consigli per le letture e li seguo io leggo i libri che mi indica Giuseppe Palumbo non vi dirò chi è l'altra persona autore di di Ramarro il primo supereroe masochista e da decenni ormai una dei pilastri di di diaboliche inoltre è ottimo a indicare time out è questo segno che lui mi sta facendo indicandomi che adesso possiamo entrare nel vivo lo faccio con una domanda a James Bradburn che può anche ignorarla io la butto lì è una palla che può andare bene a tutti innanzitutto lei è qui è in rappresentante è in rappresentanza dell'arte ufficiale con la maiuscola se esiste oppure no altrimenti di tutto quello che ho detto cosa le torna ha senso? per me devo dire io devo distanziarmi da tutta questa opposizione fra l'arte fumetto perché io credo che io non rappresento l'arte con A maiuscolo io ho la grande fortuna e il privilegio adesso di dirigere un museo dell'arte però io ho direttamente anche musei dell'arte applicati musei della scienza quindi io mi trovo piuttosto nelle parti del pubblico i musei in generale le quattro grandi musei che possiamo definire come i primi musei della nostra epoca che sono tutte nate nella rivoluzione francese sono nati con il desiderio di dare accesso a tutti di aprire a tutti e questa è una missione che è anche profondamente bredenza adesso perché io mi trovo nel museo che era fondato Napoleone quindi siamo nel spirito dell'illuminismo e la rivoluzione francese io non vedo questa opposizione fra le belle arti perché quando parliamo dell'arte maiuscolo è belle arti e le arti minore io lavoro io lavoro sempre con tutti i linguaggi possibili io non penso di art non art questo ghetto però dall'inizio tanto tempo però io posso mostrare in Italia come abbiamo sempre utilizzato il fumetto particolarmente come un linguaggio fra diversi per esempio a Palazzo Strozi abbiamo fatto per ogni mostra un catalogo per bambini e famiglie quindi 18 libri per bambini e famiglie abbiamo fatto con Giuseppe Palombo tre diverse operazioni fumettiste la prima era Eterna Artemisia che raccontava una storia che era progettata nel futuro una cosa che è basata nelle razze di Caterina da Medici nel secondo abbiamo fatto un gioco su computer per lasciare capire come le medici hanno fatto il loro denaro con il quale loro hanno pagato le capolavori abbiamo fatto dopo negli anni trenta un'edizione finta come Giombo forse censurato e scomparso un ritrovato edizione di Giombo dopo la censura di Mussolini tutti i fumetti eccetto Topolino ovvio quindi per me è più giusto parlare non dell'arte però forse degli arti l'arte delle lana siamo tutti in un mestiere in cui utilizziamo diversi linguaggi raccontare ai diversi pubblici Caravaggio raccontava le sue arte è un pubblico diverso con fumetto però Caravaggio anche aveva le pressioni non industriali però lui doveva anche fare le cose con scadenza eccetera lui aveva anche assistente da pagare lui aveva quindi io non vedo una grande differenza fra le belle arti l'arte del studio e le altre linguaggi artistiche come fumetto o come altre forme d'arte applicate Gropius l'arte di Bauhaus le arti del design anche l'architettura quindi io preferirei parlare dei linguaggi e per me il fumetto rappresenta un specifico linguaggio mirato a un pubblico che si trova nel questo linguaggio e come la prima cortesia che facciamo parliamo del linguaggio dell'altrove al museo dobbiamo parlare cento linguaggi come dice Loris Malaguzzi a Reggio dobbiamo riconoscere le centinaia di linguaggi fra quale un fumetto rappresenta un linguaggio con il suo pubblico destinazione Giuseppe se posso intervenire credo che James abbia detto una cosa sostanzialmente perfetta se c'è se c'è qualcosa che mette insieme fumetto e arte forse è proprio questo cioè è il lavoro è l'attitudine a sviluppare un linguaggio e portarlo alla qualità maggiore possibile se questo di me farà un artista non lo so ma tutto il giorno io lavoro affinché il linguaggio dei fumetti che utilizzo divenga sempre più tra virgolette perfetto non so se ci arriverò mai però credo che la perfezione non sia di questa terra però è in questa mia attitudine al lavoro affinché questo linguaggio che utilizzo quello dei fumetti raggiunga la sua massima qualità credo che in questo sia il mio lavoro tra virgolette artistico posso aggiungere una parola io so che io non vorrei prendere troppo la parola però sto lavorando su un progetto infatti di riconoscere che ogni artista se vogliamo dire che sia un fumetista che sia un artigiano che lavora con il vetro che sia un musicista che sono un sonata che sia qualsiasi artista interessantemente convergono tutti sulle stesse forme di parole e la descrizione del loro lavoro cercano ideale perfezione ricordano il lavoro l'impegno l'importanza di impegno dedicazione c'è tutta una serie ogni artista qualsiasi medium che utilizza converge su una serie di parole e concetti che sono fondamentalmente le stesse quindi queste idee di opposizione il linguaggio di un musicista quando io recentemente ho fatto un concerto a Brera io ho filmato la prova fra due musicisti e loro hanno ovviamente fermato il pezzo e detto no 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 io vorrei più respiro io vorrei che questa attenzione qui dobbiamo sostrare ma è la stessa cosa che un artista fa quando decide un pennello una traccia la stessa cosa che fa un maestro di vetro o un maestro che fa la ceramica ci sono i concetti che sono fondamentali e l'idea che sia bella arte arte musica architettura ha un'importanza secondaria Daniel un'ultima chiosa è questo zitto mi ricordo durante un'intervista radiofonica a cui partecipai c'era anche tra gli ospiti c'era Ugo Pratt e mi rimasse stampata questa frase che disse si parlava del futuro del fumetto allora io che ero giovane e scatenato parlavo di fumetto e internet già in tempi ancora non si capiva bene cos'era internet e già ne parlavo quindi per darvi l'idea di quanto ero sconsiderato e Pratt disse questa frase in fondo il fumetto è tutto nel gesto della china io rimasi infolgorato da questa da questa frase perché ti restituisce tutta l'idea della dedizione al segno al gesto con cui tu tracci quel segno e tutto il racconto che c'è dentro quel segno quindi in questa frase c'è tutto l'operare artistico di Ugo Pratt e di chi ambisce andare in quella direzione insomma il gesto della china Daniel tu hai messo insieme spesso il gesto e il disegno in maniera ogni volta diversa vuoi parlarcene nel senso di tecnica la tecnica e poi le tue performance che hanno a che fare con il tuo disegno sì va bene io praticamente io sono partito dal studio di di pittura tradizionale io ho studiato nell'accademia di di belle arti di Zagabria studiando la pittura tradizionale questo questo sono le mie radici partendo da quello cercavo un modo di 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 trasformare questa queste queste tecniche di pittura in bianco e nero perché mi sempre affascinava il chiaroscuro per me la pittura di di Caravaggio e di Velasquez sono probabilmente quelle fondamentali per nel nel corso di 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 pittura così e poi solo per un attimo tornando a questa storia di che cosa è arte che cosa è fumetto io comunque vedevo la il processo è sempre un mestiere soprattutto è un mestiere un modo di 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 imparare imparare la tecnica è un metodo poi se è arte o non è arte secondo me è una cosa secondaria e poi questa cosa di 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 performance cioè per dire un performance praticamente sono le pitture al vivo come quella cosa che diceva James fondamentalmente si sempre parla dei metodi che usiamo se siamo musicisti se sono musicisti se sono cioè vari tipi di artisti comunque devono usare le tecniche per arrivare a un risultato io ero sempre molto affascinato dalla musica soprattutto musica al vivo per me è un momento dove siamo se siamo in pubblico siamo i testimoni di un processo creativo che sta succedendo sul palco e mi chiedevo se sarebbe possibile fare una cosa simile con la pittura trovare un modo dove si può mettere insieme la pittura e la musica sullo stesso palco che tutte le due cose crescono insieme nello stesso momento creando creando una opera unica riunita con sempre con una linea narrativa perché io sempre parto da una linea narrativa il fumetto è il modo di parlare di dire le storie tramite le immagini quelle parole e così è nata questa idea di creare questi diciamo performance dove musica al vivo e la pittura al vivo si si riuniscono in una cosa unica creando creando una opera praticamente io sul palco io non faccio io sto lavorando io ho una serie di di cose che devo creare dentro un spazio e dentro un certo limite di di tempo sono le cose che in generale durano 30 45 minuti al massimo per questo potevo permettermi di 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 provare questa cosa perché la pittura non è una cosa che naturalmente sta succedendo davanti al pubblico non è una cosa naturale che si che si che un artista si mette davanti al pubblico a creare perché questo processo è spesso si si fanno serie di correzioni per arrivare per arrivare al risultato e spesso sono le cose che magari non vuoi far vedere a nessuno e succedono in un spazio chiuso in un spazio intimo però la musica al vivo è quella che sta creando per me un un certo spazio dove io mi sento abbastanza sicuro per mettermi là e provare a creare una opera al vivo comunque queste opere al vivo non sono mai improvvisate sono ben preparate solamente così si potrebbe creare una cosa dentro un tempo molto limitato grazie Daniele se volete provo a fare una sorta di sintesi di quello che è stato detto perché alla fine noi siamo qui per rispondere a una domanda il fumetto l'arte quale può essere il possibile legame ma è una domanda che proviene probabilmente anche dal pubblico è una curiosità che solletica anche non addetti ai lavori ma a cui è già stato risposto da almeno un secolo e mezzo alla fine è da metà ottocento che le arti maggiori le arti minore si sono fuse questa distinzione non esiste più poi tutti i fumetti sono opere d'arte no ovviamente come non tutti i dipinti sono opere d'arte tutte le sculture non sono opere d'arte ma il linguaggio per dirla con James di per sé è un linguaggio espressivo oltre che comunicativo per cui sì certo che il linguaggio può essere vettore di opere d'arte e come le opere come gli artisti anche i fumettisti operano rispondendo un'esigenza di mercato ovviamente da giotto in poi che c'è un'impresa in questo senso anche lui aveva degli operatori da pagare degli aiutanti e un'impresa che a quel tempo era una sorta di multinazionale e via fino ad arrivare a noi quindi non è mai stata distinta l'arte con la maiuscola dalle leggi di mercato e dalle esigenze di riempire la pancia in qualche modo dopodiché la mia storia proviene da un fumetto che è casomai ecco di un settore molto particolare che è quello satirico omoristico ma anche lì non c'è una come dire una distinzione particolare ci sono un elenco sterminato di artisti giganteschi che hanno fatto satira a partire da Bernini da Goia Hogarth e via dicendo ma fino ad arrivare ai giorni nostri per cui non è è curioso casomai come per arte si intenda qualcosa di sempre di solenne di importante di grave che abbia dei contenuti importanti spesso molto retorici volendo quando invece se una cosa solleva una risata un sorriso o una riflessione di riso amaro amaramente comica viene vista un po' come un sottoprodotto basti pensare alla commedia all'italiana di scola risi monicelli eccetera non erano mai paragonate ai grandi filmoni drammatici dell'epoca del neuralismo o così via è sempre vista come una sorta di espressione secondaria ecco da un lato ci sono i temi gravi dall'altro invece quelli umoristici questa cosa mi può sorridere perché anche la risata anzi è una delle espressioni delle necessità anche umane beh qui c'è sotto un antico discorso del pregiudizio filosofico contro il riso ma ti volevo chiedere Daniele tu dicevamo insegni anche queste cose e sei anche a contatto e forse puoi contribuire un po' a cambiarla con la percezione che nel grande pubblico ancora forse prevale dell'arte come qualcosa di sacrale di alto di lontano dalla vita di molti come la insegni e che cosa trovi nei tuoi studenti quando li incontri e cosa speri poi di aver lasciato quando li lasci io cerco di rispondere in base a quello che poi mi dicono perché parlare di me come insegnante lo trovo un po' imbarazzante però quello che poi mi raccontano gli studenti con cui ho a che fare gli anni dopo mi fanno capire che se non per tutti per alcuni riesco a aprire degli spirali delle curiosità in questo in questo senso come come di racconto come di presento l'arte spesso dissacrandola raccontando gli uomini che l'hanno fatta raccontando le vicissitudini smitizzando e chiedendo anche i perché certe opere d'arte o certi movimenti si sono creati in base al contesto in cui sono sorti cioè spiegandone le motivazioni perché se no diventa una teoria di figurine che non porta niente cioè non ha senso il fumetto credo che paghi ancora una sorta di peccato originale che deriva dal fatto che quando è nato era appunto un linguaggio destinato all'infanzia nelle pagine dominicali dei giornali specialmente statunitensi destinata a facce di pubblico molto povere e che quindi mescolava non era né pittura né letteratura mescolava dei disegni illustrati due linguaggi diversi e che quindi non era né carne né pesce e per questo è stato bollato come una sorta di marchio di infamia quando invece si è capito molto tardi che è un linguaggio vero e proprio che ha delle potenzialità incredibili potentissime ha delle caratteristiche davvero ancora per molti versi inesplorate questo lo rende ancora un territorio estremamente interessante ecco parliamo della comunicazione perché tutti voi come autori o come operatori James vuoi intervenire? si io hai il microfono mutato no ok 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 adesso a posto sì io vorrei intervenire su questo perché punta su un tema molto interessante è che se consideriamo le atti tutti gli atti come linguaggi c'è un momento in cui c'è un certo maturità Daniele ha appena parlato che prima ricordiamo le domenicali le corriere le piccole però c'è un momento in cui il linguaggio prende forma pensiamo della lingua italiana con Dante la lingua inglese con Shakespeare io ho fatto una mostra a Frankfurt in 2001 su virus su computer come una forma di letteratura concreta perché abbiamo trovato una comunità dei hacker e abbiamo era per noi una sorpresa perché abbiamo veramente lavorato molto con loro e abbiamo capito che loro parlano l'uno con l'altro con code con i codici con i numeri con le e il loro linguaggio che è emerso era le virus non sono le persone che hanno voluto hijackare le borse o infiltrare la CIA erano persone che hanno una tale competenza con descrivere in un linguaggio molto rarificato che loro hanno sviluppato espressione comunicazione poesia infatti e era abbastanza sorprendente il grado in cui una cosa banale una funzione tecnica è divenuto un vero linguaggio io credo che c'è questo passaggio in tutti i veri linguaggi e Fumato dobbiamo dire aveva le sue storie infatti è nato prima delle domenicali è nato con Hokusai nel primo ottocento però guarda il sviluppo anche del Hokusai il primo abbinamento di cui conosciamo dell'abbinamento testo immagine che divenga Kame Shibai influenzata dai fumetti statunitense che divenga manga e questo cambia e divenga dopo anime però possiamo parlare adesso del studio Ghibli e del manga di una grande maturità del linguaggio quando non possiamo parlare delle stesse cose diciamo delle prime manga fino al ottocento quindi io credo che è molto interessante di dire dove siamo adesso Giuseppe nella maturità del linguaggio del fumetto per un fumettista dove siamo ha parlato di Hugh Pratt parliamo delle grandi maestri delle graphic novel però la graphic novel che è una parola che mi piace molto è veramente il sviluppo di serietà e del linguaggio del fumetto che va molto oltre Flash Gordon per esempio o Mandrake ma sai si potrebbe discutere a lungo su questo argomento perché per esempio se guardo proprio alle origini del fumetto inteso come produzione industriale semi contemporanea ormai perché sono passati un bel po' di decenni un secolo e più penso per esempio a Lionel Feininger no? Sì è proprio una figura che azzera tutto il discorso ma è Diabolique oppure anche Winsor McKay insomma possiamo fare dei nomi che hanno già portato l'asticella del lavoro sull'inguale metti già al suo nascere verso dimensione se penso poi a Winsor McKay anche come artista che ha fatto performance live un provocazione però chi sarebbe Dante del fumetto prima di Dante non possiamo parlare la lingua italiana dopo abbiamo chi è Dante del fumetto intanto possiamo parlare di Dante in Italia possiamo parlare di Shakespeare in Inghilterra o nel mondo anglosassone quindi dobbiamo contestualizzarlo geograficamente però la lingua inglese prima Shakespeare non è magari comprensibile ma se leggiamo La Fairy Queen di Spencer adesso che era scritto da pochi anni di Shakespeare non ci riconosciamo la lingua è quasi una lingua antica dal Shakespeare poi lui parla un inglese che è veramente contemporaneo e questo è un momento lo stesso io direi io non so io non sono l'esperto nell'italiano però Goethe in tedesco ha cambiato talmente le sue lingue che possiamo parlare prima e dopo la lingua divenga contemporanea quindi per il fumetto quando è il fumetto divenuto un linguaggio contemporaneo posso parlare da italiano a questo punto così circoscrivo l'ambito fenomenologico e geografico è un buon Dante sì 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 per me sarebbe lui francamente se devo dirne uno è Winsor McKay almeno per l'occidente mettiamola così perché poi se vogliamo andare a guardare gli ambiti aiuto lasciamo poco ma anche lì il fumetto è la Corea è la Cina insomma ci sarebbero altri ambiti geografici da esplorare per quello che sappiamo noi per quello su cui noi siamo cresciuti io i pionieri che sono stati Feininger e McKay per me sono il punto di riferimento costante in un certo senso il lavoro che hanno fatto sulla struttura della pagina sulle atmosfere sulla scrittura sulla caratterizzazione dei personaggi sulla sull'attenzione data alla costruzione dei fondali credo che lì ci sia ci sia veramente il punto fondativo il punto fondativo e allo stesso tempo ancora il punto da superare in qualche maniera in Italia credo che lo snodo siano stati gli anni 80 devo dirlo perché lì io ho visto il fumetto cambiare strada l'ho visto cambiare strada prima da da spettatore da lettore e poi da in qualche maniera da operatore anche da giovane autore che provava a fare il suo lavoro insomma e e allora innanzitutto il primo gruppo degli autori italiani siamo abituati a riconoscerlo a una sorta di primogenitura a Ugo Pratt sicuramente ma ce ne sono tanti c'è Sergio Toppi c'è Dino Battaglia c'è Magnus Giuseppe abbiamo ancora qualche minuto ma prima di passare a un rapidissimo giro con gli altri nostri amici potrebbe esserci qualche un po' un vizio generazionale in questa diciamo centralità degli anni 80 parliamo della nostra età non solo della tua diciamo senti guarda manco a farla apposta per prepararmi un po' a questo incontro ho recuperato questo numero di una rivistina che si faceva a metà anni 80 alter alter e uno degli argomenti era speciale alter arte come vedete e in copertina c'era niente di meno che pazienza con con Zanardi che è un altro snodo della crescita del linguaggio dei fumetti in Italia e lui forse un altro possibile Dante da tenere presente avrei ancora qualche quindi non è peregrino non è proprio solo generazionale la mia come dire la mia così netta decisione di indicare gli anni 80 però insomma sicuramente il 2000 agli anni 2000 gli autori che sono venuti fuori io credo che in questo momento il fumetto da un punto di vista il linguaggio esprime una qualità enorme e credo che questa maturità però deriva fondi le sue radici negli anni 80 sì ma un ultimo contributo di due secondi credo anche che questa cosa sia evidente dal fatto che l'industria cinematografica da qualche anno stia cominciando a pescare a piene mani dal bacino del fumetto nel senso che questa qualità non solo grafica ma proprio contenutistica di cui parlava Giuseppe questa ricerca anche linguistica abbia attirato la curiosità di altri ambiti non ultimo quello appunto del cinema sono testimonianze proprio film serie tv tratte da fumetti più o meno commerciali più o meno autoriali qualunque cosa sia vero non c'è solo la Marvel sono tanti film di registri anche molto diversi registri oltre che registri molto diversi che vengono tratti da fumetti Daniel una domanda molto rapida sei forse insieme a James il più internazionale hai lavorato oltre che pubblicato hai anche lavorato e vissuto in diversi paesi hai notato differenza nel modo in cui il tuo lavoro viene accolto in Italia in Croazia negli Stati Uniti in Francia sì vabbè io io ho vissuto tanti anni nei Stati Uniti c'è un'enorme differenza proprio nell'eccezione del fumetto idea del fumetto sono secondo me sono due mondi diversi io io vedo fumetto comunque come una forma molto fluida io non so se si può dire quando dove è stato stabilito questo linguaggio da dove cioè un Dante non so se si possono paragonare queste cose perché mi sembra che fumetto come un'arte multimediale è ancora c'è tantissimo da sviluppare è ancora tantissimo da dire è una forma molto molto viva è molto difficile definirla questo è il bello del fumetto perché c'è ancora un enorme spazio da scoprire è vero possiamo aggiungere che è anche molto giovane in prospettiva storica all'età del cinema più o meno cioè poco più di un secolo 120 130 anni è più giovane della fotografia quindi in realtà abbiamo appena cominciato James in un paio di minuti tu oltre a dirigere istituzioni organizzi mostre e progetti rivolte al pubblico e abbiamo visto anche prima scorrendo delle immagini che scorrevano del progetto di Palazzo Strozzi di Artemisia hai messo insieme come dicevi aspetti molto diversi hai fatto incontrare il fumetto e altri aspetti che interessavano qual è la risposta del pubblico cioè quando fai queste operazioni che reazioni ci sono ma come spesso quando facciamo diversità di offerte la risposta è sempre positiva perché io credo che è un vizio nostro di definire fumetti per giovani oppure bambini belle arti per la realtà è che ciascuno ha una reazione diversa abbiamo trovato gli ottonenni che erano fascinati dal racconto del fumetto quindi io credo che l'importanza è di aumentare sempre la diversità dell'offerta credendo nell'intelligenza e la diversità del pubblico io credo che l'errore di mirare un linguaggio ha soltanto un pubblico e come con le didescalietate che abbiamo non sono per le ipovidente soltanto perché infatti tante persone apprezzano la possibilità di aggiungere altre esperienze nel loro apprezzamento dell'arte quindi l'importanza è di diversificare il fumetto rappresenta un linguaggio diverso come Giuseppe ha parlato di una costruzione di concetti sul pagine un abbinamento di immagini e testo che è diverso che gli altri linguaggi che utilizziamo normalmente nel museo io ti ringrazio James approfitto di questa occasione unica per fare il bravo siamo perfettamente cosa che non mi capita spesso siamo perfettamente in orario io ringrazio ovviamente tutti quelli che non so quali e quanti sono ma so che ci hanno seguito gli amici che sono stati qua con noi James Bradburn direttore generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Bright Dance Daniel Gegeli autore fumettista non starò di nuovo a presentarlo ovviamente molto noto da tanti anni in Italia Daniele Caluri e Giuseppe Polumbo ben noti a tutti i nostri spettatori italiani soprattutto se in qualche modo hanno bazzicato Lucca nelle ultime due o tre ere geologiche io vi ringrazio molto della vostra presenza e saluto insieme a voi tutti quelli che sono in ascolto ciao ciao a tutti grazie a tutti